Welcome, io sono Miss Famesa Peh, sono felice di averti qui, alla fine del video non mancare di vedere una piccola e simpatica sorpresa, la passerina ha cinguettato che al grande fratello VIP tra storie d'amore che nascono, altre che finiscono, discussioni sempre più accese, polemiche, intrighi, battute divertenti. Al grande fratello VIP condotto da Alfonso Signorini, Martina Nasoni spara a zero su Oriana e dice a Daniele Dal Moro di lasciar stare la venezuelana caliente. Guarda tutto il video completo per approfondire la notizia. Martin ha dato alcuni consigli a Daniele Dal Moro sparando a zero dicendo che Oriana Marzoli non è sensibile nei confronti dell'uomo e si sente molto dispiaciuta per questo. La Nasoni ha detto ad Al Moro di non accanirsi, perché così il geffino si risparmia tante scocciature. Secondo la vincitrice del grande fratello 16 ed ex fidanzata di Daniele, Oriana porta soltanto guai e problemi. Lei è convinta che Oriana non cambierà mai, mi dispiace vederti così sai, però io dico, se sei consapevole di questa cosa fai un passo indietro e basta, ti risparmi un sacco di rotture, ti risparmi di passare per una persona che non sei, ti risparmi delle attenzioni da una persona che non ti convince troppo, se lei non ti convince, non ti convince, punto, tanto le persone non cambiano, lei non cambia, che pensi, scrivimi nei commenti un tuo pensiero. Amica, o amico sono soltanto voci, bisbigli, rumoreggi, voci di corridoio, non c'è niente di sicuro e del domani non c'è certezza, a presto con nuove anticipazioni, news, indiscrezioni, un saluto da Miss Famesepe, e ora pubblicità che fa bene al cuore, mi hanno detto che se faccio vedere la mia topina tu mi metti un like, vediamo. Alla prossima verse. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Per questo bisogna coltivare tanto coraggio, così tanto da riuscire a spaventare la paura. Bisogna coltivare tanto coraggio, così tanto da spaventare la paura. Qui, torna a trovarci e ti aspettiamo.